Un saluto dal Tg della Mobilità. Proseguono le attività per il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria della linea A della metropolitana, iniziati lo scorso 4 luglio. Nei primi tre mesi di cantiere sono stati sostituiti oltre 4 chilometri di binari tra Anagnina e Arco di Travertino. La durata complessiva dei lavori è prevista in 18 mesi dalla data di inizio cantiere. Al termine dell'infrastruttura della linea sarà significativamente migliorata nelle condizioni generali di erogazione del servizio. Per lasciare spazio ai lavori, sulla metro A dalla domenica al giovedì a partire dalle 21, i treni sono sostituiti da bus. Il venerdì e il sabato i lavori sono sospesi e la metro A è attiva sino all'1.30 di notte. È tutto, appuntamento alla prossima edizione. Grazie a tutti.